buongiorno buon lunedì mattina buon inizio settimana oggi andiamo avanti con una nuova puntata di rudy monday dove analizziamo alcuni rudimenti tra i 40 fondamentali la settimana scorsa abbiamo finito con il flame drag oggi andiamo avanti appunto coi drag cominciamo con il primo che è il drag rough che consiste semplicemente in un drag quindi due colpi veloci con la mano sinistra seguiti da un colpo con la mano destra e poi il contrario andiamo avanti con il single drag tap che è uguale a prima ma aggiungiamo un tap una nota in più non accentata quindi abbiamo due colpi veloci di sinistra destra sinistra e poi il contrario e concludiamo la serie di oggi con il double drag tap che è assolutamente uguale a prima ma aggiungiamo un drag quindi abbiamo due colpi veloci di sinistra destra due colpi veloci di sinistra destra sinistra e poi di nuovo il contrario bene questi erano i rudimenti per questo episodio di rudy monday usateli come sempre per riscaldarvi durante tutta la settimana prima di mettervi alla batteria e ci vediamo la settimana prossima sempre di lunedì mattina con i nuovi rudimenti ciao